È una partita importante per noi perché veniamo da una sconfitta e per noi è una grande opportunità domani per rifarci sia della prestazione che del mancato risultato. Quindi per noi è una partita importante come hai detto tu al di là della classifica. La squadra si è preparata bene con maggior rabbia anche se sono onesto prima di Catanzaro la squadra stava bene, aveva preparato la partita nel migliore dei modi e poi abbiamo incontrato onestamente un avversario molto forte. Francesco è ritornato da pochi giorni quindi non so se valutarlo dall'inizio o meno. Adesso vediamo domani come si è ammessi e poi si sceglie ma o dall'inizio o in corsa è un giocatore per noi importantissimo. Paradossalmente la sconfitta ti insegna molto di più che se fai un pareggio e non rimani toccato dalla sconfitta e quindi ci ha insegnato molto. Ci ha insegnato che se siamo compatti, organizzati perché a Catanzaro è mancata un po' di organizzazione nella fase di non possesso e quando incontri squadre così forti se non sei al massimo organizzato è normale che viene fuori la bravura dell'avversario. Quindi ci ha insegnato che noi per competere al massimo del nostro livello dobbiamo essere organizzati e dobbiamo mettere in campo quell'intensità che fino ad oggi ci ha contraddistinto. È un avversario forte di notevole caratura tecnica. Giocano con un modulo complesso se non si è organizzato, se altri 5-2. Potrebbero cambiare modulo, domani vediamo, cercheremo di adattarci. La loro fase più importante è la fase di possesso perché attaccano con molti uomini e inevitabilmente però lasceranno spazi perché è una squadra che perde equilibrio. Sono molto bravi nelle palle inattive, cercheremo di fare molta attenzione lì e detto questo è una partita difficile perché incontriamo un avversario forte al pari con il Catanzaro, al pari con altre squadre. Ma questo non significa niente. Se noi avremmo fatto tesoro di quello che è successo a Catanzaro e saremo compatti, aggressivi come siamo sempre stati noi, questa partita ce la giocheremo.